Il gruppo ERA, multi-utility leader nei servizi ambientali, idrici ed energetici, presenta la quindicesima edizione del report In Buone Acque, per scoprire tutto e di più sulla qualità dell'acqua del rubinetto a chilometro zero. Il 53% dei clienti di ERA già oggi beve acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia, e il report ci spiega perché. Cinque, infatti, sono i buoni motivi per farlo. L'acqua di casa, anzitutto, è sicura. Nei territori serviti dalla multi-utility, è controllata e garantita da oltre 2.800 analisi al giorno, effettuate da una rete di laboratori qualificati del gruppo ERA e delle aziende sanitarie locali. In secondo luogo è buona, a basso tenore di sodio e ricca di oligoelementi. Poi fa bene all'ambiente. Quelli che la scelgono evitano 477 milioni di bottiglie di plastica, e se tutti facessero come loro, se ne eviterebbero altri 607 milioni. Se questo non bastasse, l'acqua del rubinetto è anche economica. Una famiglia di tre persone può risparmiare oltre 570 euro l'anno. Infine, è comoda, perché arriva direttamente nelle nostre case, senza obbligarci a trasportare e smaltire alcunché. Per chi vuole approfondire, inoltre, il report contiene anche l'etichetta dell'acqua, che prende in esame, provincia per provincia, tutti i principali parametri dell'acqua stessa, dimostrando che essa rispetta con ampio margine i limiti di legge con caratteristiche comparabili alle principali acque minerali in commercio. Ma quanto costa l'acqua del rubinetto? Oltre un terzo di noi non lo sa, e più della metà sovrastima il prezzo reale. Nei territori era, il costo medio di un metro cubo di acqua, mille litri, è di 2,3 euro, 0,23 centesimi al litro, tra i più bassi in Europa. L'acqua è una risorsa preziosa che va preservata. Ecco perché ERA mette a disposizione dei propri clienti il Diario dei Consumi, uno strumento intuitivo che confronta i nostri consumi di acqua con quelli di un'utenza simile e virtuosa, aiutandoci a risparmiarla. Inoltre, semplici e pratici consigli si possono trovare sul sito di ERA. Il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Perché le scelte che contano cominciano anche dal rubinetto di casa.